Immaginiamo che la tv da 50 o 60 pollici che avete a casa non vi soddisfa più, volete qualcosa di più, volete una tv da 80 pollici o magari oltre uno schermo da 100, 120 pollici, ma le tv che trovate costano tantissimo e in realtà sopra gli 80 pollici, come dire, non esistono. Ecco, se siete in questa situazione potreste trovare la soluzione alle vostre necessità in un proiettore a ottica ultra corta. Per questo, nei prossimi minuti andiamo a vedere che cos'è, come funziona, quali sono i vantaggi, quali gli svantaggi, quindi capiamo se un proiettore di questo genere è quello che dovreste acquistare o no. Rispolveriamo le basi di funzionamento di un videoproiettore, così capiamo la differenza tra i vari tipi. Tutto inizia chiaramente da una fonte luminosa. Che può essere di varia natura, ma solitamente oggi sono ancora tre. Le fonti luminose utilizzate, LED, una lampada incandescenza classica o laser. Per i proiettori a ottica ultra corta viene solitamente usata una fonte luminosa laser. Questa luce viene inviata verso il sistema di proiezione, fatta rimbalzare su degli specchi con l'obiettivo di instradarla all'interno di vari filtri che permettono appunto di manipolarla il necessario per riprodurre le varie immagini con i vari colori. Questa è una descrizione chiaramente molto generica perché le tecnologie impiegate, come quelle del CD o quelle di LP, chiaramente differiscono tra di loro, ma per il momento non è necessario andare nei dettagli. La luce manipolata, che rappresenta l'immagine che si vuole visualizzare, viene inviata verso una lente o più lenti che si occupano di concentrarla su una superficie con chiaramente delle dimensioni, una forma specifica che poi è il nostro schermo. Le lenti che vengono adottate possono avere dei fattori di riproduzione molto specifici e sono responsabili non solo della qualità dell'immagine, assieme ad altri fattori, ma anche della dimensione chiaramente dell'immagine in base alla distanza di proiezione. Eccezione fatta per cambiamenti specifici al gruppo di proiezione, l'elettronico, come dire, o altri elementi, la principale differenza che un utilizzatore rileva tra i differenti tipi di proiettori è la distanza di proiezione, cioè a parità di dimensione dell'immagine visualizzata, un proiettore classico necessita di essere posizionato a una distanza decisamente superiore rispetto a un proiettore a ottica ultracorta, a cui invece bastano pochi centimetri per produrre un'immagine delle stesse dimensioni. Un proiettore a ottica invece corta si posiziona, come dire, a metà rispetto al proiettore tradizionale e quelli a ottica ultracorta. Un proiettore normale solitamente ha bisogno di almeno, come dire, un paio di metri e oltre, ben oltre spesso, dalla superficie di proiezione per creare un'immagine di grandi dimensioni. Un proiettore a ottica corta invece è in grado di fare il suo lavoro a una distanza tra il metro e i due metri al massimo, mentre un proiettore a ottica ultracorta non si posiziona a oltre un mezzo metro e spesso 15-20 centimetri di spazio sono sufficienti per creare uno schermo da un centinaio di pollici. I vantaggi di un proiettore a ottica ultracorta sono solitamente da ricercare nelle conseguenze dello spazio ridotto necessario per proiettare un'immagine di grandi dimensioni. Necessitando di soli pochi centimetri di spazio, un proiettore può essere posizionato ad esempio su un mobile appoggiato alla parete stessa su cui poi volete chiaramente proiettare l'immagine, non differentemente da quello che fareste con un normale televisore. Ciò porta con sé alcuni benefici come ad esempio la possibilità di collegare le varie apparecchiature come un riproduttore multimediale, un impianto audio, senza dover portare i vari cavi di collegamento dalla parte opposta della stanza. Molti proiettori a ottica ultracorta utilizzano un sistema di specchi che sposta praticamente la zona di proiezione nella parte centrale e superiore dell'involucro del dispositivo inviando quindi questa immagine verso l'alto. Questa è anche una soluzione ergonomica fondamentale che non richiede come ad esempio invece succede con i tradizionali proiettori di essere posizionati o attaccati al soffitto o come dire abbastanza centralmente rispetto all'immagine che vogliono proiettare. Inoltre essendoci pochissimo spazio tra il vostro proiettore e lo schermo su cui viene proiettata l'immagine non rischierete di poter inserirvi o con un oggetto voi stessi appunto nel mezzo del fascio luminoso come solitamente accade con i normali proiettori che a un certo punto uno si alza e proietta un cono d'ombra. Un altro beneficio in questo caso non del formato ma di quello che solitamente l'industria impiega per questa tipologia di dispositivi è l'utilizzo come accennato di un sistema di proiezione laser che offre un'elevata luminosità e una durata della lampada decisamente superiore rispetto alle altre due fonti. Aggiungiamo poi come ulteriore vantaggio la presenza spesso all'interno di proiettori di questo genere di un sistema audio decente. Non che negli altri proiettori non ci siano gli ottoparlanti ma solitamente sono di qualità inferiore e poi avendo il proiettore posizionato sopra o dietro l'audio arriva come dire da sopra o da dietro mentre con un proiettore ottico ultracorta posizionato come se fosse un televisore davanti a voi l'audio solitamente di qualità maggiore arriva anche da dove dovrebbe arrivare. Vediamo ora gli svantaggi o meglio gli accorgimenti da tenere in considerazione se volete acquistare e installare un proiettore a ottica ultracorta. Le lenti utilizzate in questi proiettori hanno delle caratteristiche estreme cioè considerando che devono essere in grado di estendere la luce a un'angolazione molto ampia per creare schermi molto grandi in uno spazio di proiezione di pochi centimetri quindi come dire sono estremi nelle caratteristiche per poter ottenere questo risultato con una buona qualità anche in termini di una buona geometria. Ecco ciò nasconde il rischio che se il proiettore non è di buona qualità potreste avere problemi di appunto di geometria di forma o anche problemi di nitidezza addirittura su tutta l'immagine. Non è una regola, ok? Diciamo che il rischio rispetto a un proiettore più classico che non necessita delle lenti così estreme è superiore e quindi se volete un proiettore di questo genere assicuratevi di prendere un buon proiettore. Installare un proiettore a ottica ultracorta è come dire tanto facile poiché basta appoggiarlo come detto sul mobile attaccato a un muro quanto difficile nella parte di regolazione. A meno che il produttore non offra dei sistemi di geometria autofocus avanzati come molti in realtà oggi fanno sulla parte consumer il proiettore deve essere posizionato in maniera molto precisa poiché anche come dire un mezzo millimetro di disallineamento potrebbe creare un problema nella visualizzazione dell'immagine. Non è nulla di super complicato ma se volete acquistare un proiettore di questo tipo o assicuratevi come dire l'intervento di un professionista o armatevi di tempo e pazienza. Sempre parlando di poca flessibilità nell'installazione questi proiettori solitamente hanno lenti fisse ciò significa che non offrono alcun livello di zoom quindi se volete centrare l'immagine ottenere un'immagine delle giuste dimensioni in base allo schermo che avete installato o comunque al prodotto che avete acquistato torniamo a quello che ho detto poco fa dovete fare molta attenzione durante la fase di messa in opera. Inoltre la superficie su cui volete proiettare l'immagine dovrà essere molto molto liscia proiettando l'immagine quasi verticalmente dal basso verso l'alto è chiaro che se la superficie non è perfettamente liscia subirà come dire modificherà l'immagine proiettata creando un'immagine non perfettamente diritta. Uno schermo di proiezione ha solitamente tre scopi principali assieme a qualche caratteristica secondaria creare una superficie di proiezione dove non esiste in questo caso immaginiamoci solitamente quei vari teli che si estendono offrire un guadagno in termini di luminosità per dare una mano al proiettore nel visualizzare un'immagine luminosa e in alcuni casi anche estendere la cromia e offrire una superficie di proiezione omogenea. Nel caso di un proiettore ottica ultracorta l'abbiamo detto poco fa chiaramente l'obiettivo principale e il più importante per uno schermo è quello di offrire una superficie molto omogenea che eviti dei difetti visivi. È anche in questo caso una buona idea acquistare uno schermo delle dimensioni corrette rispetto al proiettore rispetto alla dimensione dell'immagine del proiettore che gli dà una mano anche nella fase di installazione suggerendovi un po' il posizionamento nonché in realtà spesso evita anche dei fastidiosi riflessi che possono avvenire nella stanza da fonti luminose dirette soprattutto quelle che stanno a soffitto. Quindi nel caso del proiettore ottico ultracorta uno schermo non è veramente necessario per il funzionamento ma è altamente consigliato per ottenere i risultati migliori. Sono due i motivi principali per scegliere un proiettore ottica ultracorta. Se cercate un proiettore che non richiede una distanza di proiezione elevata con chiaramente tutte le conseguenze del caso come la non necessità di una stanza molto profonda il non dover portare tutti i cavi da una parte all'altra della stanza e spesso non avrete neanche la necessità di fare un'installazione a soffitto. La seconda motivazione è chiaramente il volere avere un'immagine di dimensioni molto grande secondo me attorno ai 100 pollici o anche di più immagine che solitamente non è possibile ottenere con delle tv o se è possibile ottenerla costerà veramente molto. Dal punto di vista dei costi un proiettore ottica ultracorta è mediamente più costoso rispetto a un proiettore tradizionale o un proiettore ottica corta ma se facciamo il confronto con delle tv delle stesse dimensioni patto che ci siano ecco che le tv sicuramente vi vanno a costare molto di più. Quindi se volete un grande schermo nel salotto un proiettore ottica ultracorta potrebbe essere una buona soluzione. Se avete altre domande fatemele qui sotto nei commenti lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un altro video. Ciao!